Penso di aver caricato tutto, adesso faccio un pit stop a Roma per caricare il resto della flotta e partiamo direzione... non ve lo dico, ve lo dico fra poco Anzi, sai che vi dico? Saltiamo subito a domani va, perché tanto del viaggio non ve ne frega niente Aspetta un attimo che sono... divento dislessio Ma hai guardato, è ripeso là, hai detto... no niente, non stiamo facendo niente Stiamo facendo le prove di inserimento Siamo appena arrivati e il Kata già mi ha detto ok, andiamo a fare delle riprese Mamma mia Tipo 5 e 8 Senti i cavalli? Ma perché sta cosa? Senti, arriva la cavalleria Senza un mattino ci volevo qua Ma flash bomb, dobbiamo fare pubblicità? Che cosa ho? Mamma mia, stai che la bocca è appostata ho Mamma mia No fra, il power loop è sul traguardo di Misano Oddio il power loop è sul traguardo di Misano Rifate un secondo Dobbiamo rifarlo Dovevo rifarlo Vai Vai Solo batteria 9 Sì ma 10 minuti la batteria Quanto è questa? 1.3 1.3 Non vedo però me lo ricordo qua Tutto buio No, devo accendere il radio comando io Speriamo che va la prima botta Mi si sta avviando Aspettiamo il cavallo Il cavallo Aspettiamo il cavallo Aspettiamo, fammi vedere se muovo il gimbal Ok C'è stato C'è stato È alzato il polverone però Allora dimmi quello che vuoi fare Ok, va Fai entrare il sole Eccolo, è entrato il sole Aspettiamo, adesso mi sta chiamando L'ho chiusa un po' a girare Ok, stoppala Fai entrare il sole tra le persone che riesci Ci sto Sto proprio al centro Girala, girala E vado solo a destra Adesso mi chiamano Renzo Dove? Ok 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 Vabbè io lo seguo intanto Me la porto a casa Vabbè Ok Ciao ciao È lui Camicia bianca? Camicia bianca Asseguiamolo Finché non va su Gira Passa dietro al camion Allargo un po' Favo una panoramica Sì E te magari se riesci ad alzare Fai vedere tutta la struttura Io mi alzo un po' Giro te io Alza 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 Guarda lì stai a perdere Sto al centro Ora stanno al centro Sì Fai vedere tutta la struttura Che io mi sto allargando Salgo su però Sì 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 Tieni lì bassi ora Fai lì salì 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 Io mi allontano Eh non posso salire Mi perdo se salgo Ok mi allontano più io Allontana Ti allontana Che riscendo un pochettino io Ok mi allontano Puoi alza Bravo Vai 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 Ma basso pure così Vedo il sole Tira su 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 Bravo Bella questa Eh lo so Perché c'erano tutte le quinte degli alberi Bravo così Lo lascio così? Sì sì Tenilo così finché non entra E inizio a tiltà che io scendo Tiltà in alto Vai 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 Aspetta che lo butto un po' a destra Io ce l'ho E lo lascio così Porco d'inzio Ma che siamo? Ma questo è cinema Dimmi perché se no Posiziono meglio la camera Se sono spostato No no Io qua Non mi è mai andato via Cioè da paura Qua se volevo via l'aereo lassù Ficata Porco d'io Vedi se lo becchi Più a destra e in alto Do sta? In alto Eccolo Porco tu registra E poi vai sul circuito Po' sbagliare i movimenti io Dimmi Inizio a bassare verso sinistra Verso di me quindi Vai 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 Verso destra quindi No sinistra C'è l'altra curva no? Eh ormai è persa Se vai tutta sinistra Guarda tu stiamo Sinistra Sinistra Oh la sinistra è quella mancina E' quella sinistra Orco dio Sinistra Vedi il circolpone Orco due Andiamo sui quadretti E poi da loro Ma devo fare Non muovimento lento No di più Questo che è? I quadretti parti da questi qua I primi? O dopo le scale? Dopo le scale Allora io punto dopo le scale Ok Vai Dimmi te eh Oddio questo è Lorenzo Ora stiamo a fare ripresa Non è Mi dobbiamo avvicinare più Per me va bene Ok guarda loro adesso Punta loro Se vedi la curva sotto E' un po' Ho fatto bingo Anzi ci andiamo proprio sulla curva Ma vedo l'ho vista Vai vai tieni Tieni la curva Tieni la curva Tieni la curva Bravissimo Ma stai ancora a girarla Che forza Cioè io stavo Stavo concentratissimo Che forza Questo è tutto registrato Non potevo fare cazzone Qua stiamo a far cinema Allora Vai 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 così Vai così Vai così Vai così Io giro a sinistra Metto la Ducati al centro Vai 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 Qua entra la La cena poi Quindi molla proprio tutto Lascio Guarda Mi sono otterchiazzo Io ne ho Non c'era mio pure pure Posso? Io ho sudato freddo Il Kata è troppo esigente Com'è? E' bello Che stai a dire? Eh? Niente Non ho detto niente Non ho detto niente Lo giuro Non ho detto niente Ma chi l'ha girato? No qui c'era Johnny con Ecco il Johnny Stai al cinema Figa Ma se è bello Eccolo Eccolo Madonna E' Ducati Bello porco Porco due Bello Ma sti movimenti di avvicinamento Girando Facendo C'è proprio Ti dà proprio l'effetto del cinema Cioè tu vedi Sicuramente al cinema Cioè tu vedi sicuramente al cinema Eccolo Starza 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 Ora gli alberi Sun Cioè questo sembra tipo da spia Tipo una scena di mission impossible Capito? E qua ci iniziamo a avvicinare E alzi sul coso Vai 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 Sì che? Soddisfatti? O rimbordati? Dai Ok